Via libera dal Consiglio di amministrazione dell'ANAS al progetto esecutivo per la realizzazione della variante della strada statale 652 di Fondo Valle Sangro, nel tratto compreso tra la stazione di Gamberale e l'inizio della variante di quadri. La gara d'appalto potrà essere avviata presumibilmente entro l'anno. L'opera, finanziata per un totale di 190 milioni di euro, si sviluppa per 5,3 km, prevalentemente in sponda sinistra del fiume Sangro e comprende 5 viadotti lunghi complessivamente 1,2 km e una galleria di 2,5 km. Sono 40 anni che era attesa il completamento di quest'opera così significativa ed è un'opera che ha questo valore poiché va a servire un distretto industriale che produce la più parte del PIL economico della nostra regione. E' il distretto industriale di Atessa, della Val di Sangro, unisce il mare adriatico al Tirreno, avvicina il porto di Napoli e consente la connessione al mondo di tutto ciò che si produce in questo importante rettangolo strategico. A beneficiarne, oltre che la viabilità e di territori compresi dell'opera, anche l'occupazione secondo il Presidente D'Alfonso. Questa è un'opera che in edilizia, valutate, si dice che ogni 100.000 euro di opera pubblica porta 2,5 posti di lavoro annui. Fate il conto, ma a parte il cantiere in sé che porta lavoro e porta anche riflessi nelle attività commerciali e il valore di spingimento strategico di quest'opera, lì si aumenta la velocità nel raggiungimento delle grandi distanze del mondo per la produttività di questo distretto industriale che ha bisogno di avvicinarsi al mondo. Noi operiamo sulla gomma con la Fondo Valle Sangro e poi attraverso l'acqua dei porti per arrivare alle lunghe distanze attraverso gli spostamenti marittimi. Ortona, Vasto e in piccola parte anche Pescara. Come preannunciato nei giorni scorsi, la FP CGL e la RSU hanno formalmente comunicato ai soggetti interessati l'avvio dello stato di agitazione del personale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila insieme all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Cratere sono stati istituiti con la legge 134 del 2012 per coordinare i processi ricostruttivi dopo il sisma del 2009. La legge ha dotato l'Ufficio di 50 unità di personale, di cui 25 unità assunte a tempo determinato dal Comune dell'Aquila e 25 assunte a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Considerato l'enorme carico di lavoro, tale dotazione organica è stata incrementata col tempo da personale tecnico altamente specializzato in maniere di ricostruzione. Attualmente dunque l'Ufficio Speciale dispone di ulteriori 17 unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza il 31 dicembre prossimo. Le recenti normative a seguito del sisma che ha colpito il Centro Italia prevedono per il personale assegnato agli uffici speciali in via di costituzioni alcuni istituti contrattuali, ovvero i trattamenti economici, differenziati e non riconosciuti al personale degli uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e per la ricostruzione del Cratere. Tali condizioni, denunciano i sindacati, hanno generato una disparità di trattamento giuridico ed economico tra il personale addetto e i predetti uffici. Di disparità di trattamento dobbiamo parlare riferendoci al personale dell'Usra. Infatti le normative adottate impediscono al personale la possibilità di impegnarsi nella nuova ricostruzione. Una condizione oggi facilmente risolvibile grazie all'opportunità di attingere per le relative sostituzioni dalle graduatorie degli idonei del concorso Ripam. E ancora di disparità di trattamento si deve parlare tra i contratti a termine dell'USRC e quell'Usra, i cui lavoratori vedranno scadere il contratto con quattro mesi di anticipo rispetto ai colleghi dell'ufficio speciale di Fossa. L'attuale stato di agitazione sindacale è dovuto tra l'altro anche alla possibilità che 10 unità di personale dell'Usra vengano destinate ai nuovi uffici speciali per il sisma del centro Italia, come richiesto dal commissario straordinario Vasco Errani, richiesta respinta per la forte mobilitazione della classe politica aquilana che ritiene tale forza lavoro indispensabile per la ricostruzione dell'Aquila. Eppure, aggiungono i sindacati, si corre il serio rischio di perdere 17 unità di personale co-co-co a partire dal 1 gennaio 2017.